Il risultato è il medesimo delle ultime precedenti due partite, la sconfitta però la prestazione è completamente diversa ed è stata fortemente condizionata da delle decisioni arbitrali quantomeno opinabili. Concordi con questa analisi? Sì, sono d'accordo perché abbiamo visto che anche in dieci abbiamo fatto la partita, abbiamo creato tantissime occasioni e non siamo stati bravi a sfruttarle. Io personalmente ho avuto qualche occasione buona, una netta davanti al portiere che non ho concluso, però bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare ancora meglio la prossima partita. Meglio il Pescara nel secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica piuttosto che nella gran parte della prima frazione di gioco a parità di uomini? Sì, tutto sommato abbiamo fatto un buon primo tempo e un ottimo secondo tempo. Magari l'avvio di partita non è stato dei migliori, però dopo ci siamo ripresi e stavamo tenendo la palla, stavamo creando occasioni in più e fino all'espulsione stava andando tutto bene. Poi dopo è normale che ti tiri un po' indietro e loro hanno più spazio per giocare la palla. Però nonostante questo abbiamo fatto un ottimo secondo tempo creando tantissime occasioni. Ragusa, Trapani e gli arbitri è un rapporto non fortunato in quest'anno. L'andata, il rigore non concesso, addirittura il giallo per simulazione e nel ritorno il rigore non dato con un fallo di mano che ci è sembrato abbastanza inequivocabile. Sì, io non l'ho visto personalmente perché l'ho spizzata io e poi me l'hanno detto i miei compagni, però abbiamo visto anche una fotografia che si vede la palla sulla mano di Junco, quindi il rigore era netto. Forse ce n'era anche un altro su Schiavi, che lì si l'ha tirato giù in aria, però ecco, quello è da vedere meglio. Però tutto sommato non dobbiamo recriminare su queste cose perché abbiamo avuto tantissime altre occasioni e dobbiamo cercare di migliorare per sfruttarle al meglio la prossima volta. Guardiamo il lato positivo allora, la prestazione che archivia definitivamente è la prestazione di Castellammare. Sì, la prestazione di Castellammare secondo me comunque è un caso perché abbiamo visto che fino ad allora abbiamo sempre giocato bene, è capitato una volta a Castellammare e spero che non capiti più, infatti già siamo di ripresa quindi non dovrebbero esserci problemi per le prossime partite. Grazie.